Qui vi presentiamo le 5 migliori passeggini per gatti. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. IBI ASPE e Default Paybook. È un piccolo passeggino perfetto per viaggiare o per passeggiate quotidiane. È semplice guidare anche in stanze limitate mentre si passeggia tra privati, si fa shopping o si corre in città. Ha un design classico ed è semplice da prendere. Il dispositivo specifico Duo conta per piegarlo rapidamente nonostante una mano. La sua struttura è solida, facile da maneggiare e veloce. Le parti staccabili in tessuto idrorepellente possono essere lavate a mano. C'è un enorme carrello di acquisto sotto il sedile. Passando al numero 4. Voce passeggino per cane. Petra, velvettore, gatto, cane, passeggino, antiurto. È realizzato con materiali di alta qualità, flessibili e resistenti ai grafi. Le reti sono realizzate in aero resistente allo strappo e privo di odori. L'intera struttura è realizzata in lega leggera ferro-alluminio resistente alle vibrazioni e anche agli urti. Non si deforma comodamente durante l'uso ma è molto più leggero dell'acciaio normale. È possibile guidare rapidamente il dispositivo di mobilità anche con una mano. Grazie mille grazie alla ruota anteriore che ha una rotazione completa a 360, antiscivolo e anche antiurto. A freni a ruota posteriore. Viene fornito con cavo di sicurezza e sicurezza cura e anche imbracatura per animali. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Chisma Plepe pieghevole carrelli con 4 ruote trolley per cane. Realizzato all'innome dell'adattabilità, funziona come passeggino e fornitore di servizi. Allo stesso tempo puoi tirarlo come un carrello molti grazie alla maniglia telescopica o sollevarlo come una borsa da portare con cura o tracolta. La costruzione robusta può sostenere animali fino a 10 kg di peso. La piattaforma a 4 ruote è staccabile e l'intero supporto può essere piegato totalmente piatto per un pratico stoccaggio. La borsa per animali domestici di famiglia con ruote è composta da un cordoncino per collegare il colletto dell'animale domestico di famiglia per una maggiore sicurezza. La rete resistente allo strappo resiste ai graffi e il letto in pile è rimovibile per una facile pulizia. Almost at the top of our list at number 2. Display 4 top rosa passeggino da viaggio per animali domestici. Adatto per un carico ottimale di 25 kg. È realizzato con braccioli anteriori e posteriori mobili, cinturino di sicurezza e sicurezza, usura e tessuto Oxford ad alta densità resistente ai graffi. Le tende a rete della struttura facilitano la traspirazione. Sono semplici da aprire vicine per mantenere il tuo animale privo di rischio. La struttura è estremamente rafforzata, immune alla deformazione. E infine il numero 1 della nostra lista. Display 4 top travel passeggino cane cat passeggino carrozzino passeggino buggy. Offre viaggi superiori per il tuo meraviglioso animale. Che tu stia facendo una veloce passeggiata intorno all'isolato o attraverso il parco, questo robusto passeggino in acciaio leggero a 4 ruote rende la guida senza rischi e anche fluida. Può essere utilizzato sia come passeggino per neonati che come vettore. Separarlo facilmente dalla struttura con 4K per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.